Al centro del cristianesimo c'è la verità che noi non siamo perdonati da Dio perché abbiamo compiuto buone opere, ma al contrario le compiamo perché il perdono che Dio ci offre ci dà la motivazione, lo zelo per esse. Le buone opere sono il frutto della nostra salvezza e non il motivo. L'Apostolo Paolo scrive al capitolo 2 versetto 14 della lettera di Tito, Cristo ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che li appartenga, zelante nelle opere buone. Cristo si è sacrificato per noi non perché gli abbiamo offerto delle buone opere, ma per purificarsi un popolo che gli appartenga e questo è il significato della grazia. Noi non possiamo ottenere una giusta posizione davanti a Dio per le nostre opere, ma solo grazie a un dono gratuito che possiamo ricevere esclusivamente per fede. Ecco che cos'altro dice la Bibbia al riguardo. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2 dai versi 8 a 10. Le buone opere che compiamo sono solamente una risposta all'amore che abbiamo ricevuto da Dio e che ha sacrificato suo figlio per noi e mai un mezzo per guadagnarci questo amore.